Una coppia in vetta al campionato pugliese di Serie C-Silver di pallacanestro. Si tratta di la scuola di basket Lecce e città di Cerignola che capitalizzano il fattore campo per scattare davanti a tutte. Davvero interessante il confronto del Pala-Famila dove gli ofantini di Cochvozza hanno regolato Virtus Molfetta, altra pretendente al salto di categoria 97-92 risultato finale con 30 punti di Gvezdauskas e 19 per Ionikas fra i 5 cerignolani in doppia cifra. Altrettanti marcatori in evidenza fra gli ospiti con un picco di 18 di Morchel Iunas ai ragazzi di Corvino. Non è bastato un generoso finale per recuperare. Più netta la fermazione di la scuola di basket che batte New Virtus Mesagne per 70-52. Coach Leopizzi si gode ai 27 punti di Segura mentre sull'altro fronte Trionfo si ferma a 23. Bensì le squadre a 4 punti fra cui in nuova Matteotti Corato, Cus Bari e Api Monopoli tutte vittoriosi in trasferta. Sfiora quota 100 Corato dopo averla mancata nel turno precedente in casa dell'Adile la compagine di Verile. Si ferma sul 96-69 con 28 punti di Simone Seventi di Gatta. Ribaltone nell'ultimo periodo per Api Monopoli corsare a Trani per 70-63 nonostante i 27 punti delle On nelle fila di Fortitudo. Persichella fra gli ospiti ne segna 19. Bene pure il Cus che lascia al palo Anspi Santarita Taranto superandola a domicilio per 81-65 e Sibendo un Beccari da 21 punti. In ascesa anche nuova Cesisti Cabarletta che ottiene la seconda vittoria stagionale superando Dinamo Brindisi per 98-90. Dimitrov 31 punti fa il massimo per tenere i viaggianti in vantaggio ma alla fine prevalgono i biancorossi di casa che si aggrappano. Al trio Gudemi-Kirlis-Rainis quasi 60 punti in tre. Prima gioia per Diamond Foggia che lascia a zero punti New JT Trani vincendo lo scontro diretto per 93-77 con 26 punti di Kemelis superati solo dai 28 di Egevi fra gli ospiti. Nel prossimo turno ben cinque incontri su sette in programma di sabato. Molfetta attende Barletta e Cerignola fa visita al Monopoli.